Ci dirigiamo da Montreal e Valcellina, dove eravamo l'hotel, fino a Maniago per raggiungere la partenza di tappa e da qui seguire la carovana che ci porterà sopra lo Zoncolan. Per andare adesso puoi comunque seguire il percorso da quell'altra parte, iniziare a passare dalla partenza. Ma di qua, se andiamo avanti di qua, come facciamo per arrivare poi sopra? Lei gira e... Eh, ma eravamo già prima di... Allora, dov'è che dovevi andare? Non ho capito. È su in cima. In cima a cosa? Come si chiama? Matteo, quanto ti vuoi? Diecidesimo, non ho capito. C'è la più inizia. Mi ha un amico. Come si chiama? Matteo. I pirati! Ce l'abbiamo fatta, siamo in testa alla corsa e ora dritti verso il monte Zoncolan, tra la folla festante, friulano. Entusiasmo! Entusiasmo! Eee! Eee! Scusa, come va? Come sta andando? Guarda! Sto ancora rimpiangendo di aver giocato a brisco da ieri. Non siamo mai entrati nel vivo della corsa e ora dal nulla siamo, non so, a mezzo chilometro davanti ai corridori. Ci spingono la polizia per andare avanti perché siamo troppo vicino ai corridori. Cosa pensi di Cali Labels? C'è un problema? C'è alcuni problemi qui. Ehi, devi andare! Cosa pensi di Cali Labels? Ciao, secondo te chi vince i mondiali di calcio? Ma l'Italia potrebbe essere una sorpresa. Dai scherzando, com'è? Come la vedi oggi? Ma io dico poveri corridori, dopo già questo è già un bel assaggio prima dello Zoncolan. Sì, beh, è chiaro, ma comunque sei bene, tu sei a posto. Io sì, bene, bene. 65 anni, bene. Slovenia, we will see in Trieste! Tirami! Vai, 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 grande! Fanno fanno che te mi tiri, Dio. Eh, che no, non si può, non si può. Ma che vinci il giro! Come sta andando? Ti vedo bene! Siamo grande. La prossima volta giochiamo a golf. Sai dove sono? No, ha sbagliato strada. Beh, direi i nostri, i soliti amici. 10 euro, magliette, souvenir. Vabbè, dal Monte Ovaro si sale, quindi qui siamo proprio alle pendici. Adesso c'è una che idea. C'è una roba, due ali di folla che si apri e ti vieni i brividi. Tutto chiuso, dalle due tutto chiuso. E giù a valle e nessuno sa niente. Vedo che dobbiamo reagire. Oh, se ne ho presi. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Per il resto, lo ha dimostrato ampiamente. Quintana, Quintana, che time, che time! Probabilmente in Indonesia, non in Colombia. Quando il giro d'Italia... Il Monte Ovaro è facile, solo 19 km. Perché sei vestito da pantani? Dimmi pari... Perché sono il suo idolo. Com'è il giro? Il giro è veramente una droga. Questa, fuma canone. Fuma canone, sì. Le persone, l'accoglienza, delle persone che trovi sul posto fanno emozionare. Non oso immaginare ciclisti. Canne. Ma col ciclismo, le canne e il ciclismo. Vanno bene, marijuana, appena arrivo, sì. Droga perché comunque tutta l'organizzazione, quello che facciamo per la gente, in fin dei conti, noi anticipiamo il giro d'Italia ogni un'ora, facendo l'animazione, e ogni sponsor ha delle ragazze che distribuiscono i gadget e fanno dei balletti. Ai ai ai, ma scusate. Ete vomicanone, ette vomicanone, ette vomicanone. Cioè, guidando una banana mobile. La domanda più strana, assurda, in questo giro e negli altri giri passati? Allora, viva la banana è una interazione molto frequente. E inoltre ci chiedono anche, ma vuoi la banana? O facciamo un cambio di banana? Vabbè, ci sarà un ciclista che ci ha provato con te una volta. No, perché sono in altri hotel, naturalmente, di un altro livello e sono molto chiusi. Ciao, un saluto a voi a Puntara. Un saluto. Ciao, un saluto.